Salve a tutti, oggi vedremo la partita di ritorno tra quello col nome strano BFB contro Amos 70. In questo game Amos nella partita di andata aveva già vinto, quindi non gli serviva un'altra vittoria. A lui bastava anche solo il pareggio. L'apertura era numero 118-1N, 23-19-10-13 e 19-14. Cambio. Ora come nella partita di andata il nero fa 13-17, 28-23, 9-13 e qui invece di 32-28 come aveva fatto Amos. Qua il bianco varia con 23-19, ora il nero attacca con 6-11 e il bianco glielo permette. Adesso da qui il bianco doveva riprendere subito il pezzo, però decide di complicare la partita con 19-14. Questa però è un'imprecisione e dà la partita in vantaggio del nero. Il nero qui per avere vantaggio assicurato doveva giocare una mossa impossibile come 2-6, 28-23 e poi attaccare con 6-10. Cioè, questa era la posizione che doveva andare a raggiungere, però il nero ha un pezzo in più. Cioè, quindi va sul semplice con 12-16. Qui con 12-16 perde del vantaggio, però questa per il bianco è una posizione veramente difficile da gestire. Il bianco vuole tentare tutto per tutto per questa partita perché vuole vincerla, vuole mettere un pezzo in questo punto, vuole dare il tiro a 3. E il bianco non gli importa, gioca 5-9. Qua la partita è in completa parità con un vantaggio minimo del nero con 24-20. Invece il bianco gioca un'imprecisione 14-11 con l'idea di dare il sacrificio di pezzo, facciamo una mossa a caso e poi il tiro. Ovviamente tutto questo non funziona perché adesso tocca al nero e il nero gioca 2-5. Allora il bianco va a riprendersi il pezzo con 26-22 e 22-19. Il nero fa 4-7, cattura 7-11, il bianco fa 23-20, vuole andare verso questa zona. Il nero non fa 12-16 altrimenti con questo cambio il bianco raggiunge questa parte, ma fa 11-14 la mossa migliore. Poi 20-16, questa 11-14 serviva a fare 12-15, ovviamente questa mossa non è stata fatta, è la mossa migliore del motore, molto difficile da trovare perché si manda direttamente il bianco a dama, ma lo si fa con l'idea di andare a dama con un pezzo in più. Ovviamente il nero con 19-14 ha la stessa idea di mettere i pezzi tutti su questa linea, però il bianco qui glielo poteva impedire. Con 24-20, mossa assurda da trovare, difficilissima. Poi si doveva fare 12-16, poi 19-22 ovviamente il bianco andava con due pezzi a dama, cercava di recuperare questa partita. Ora, non so se ho fatto proprio le mosse precise, forse si doveva andare già subito a dama con questo pezzo, sì. E poi da qui il bianco recuperava. Il pezzo rimaneva in presa. Ovviamente si catturava da questo lato. E la partita continuava in parità. Tutto questo non viene neanche trovato dal bianco, difficile, molto difficile, non impossibile, ma difficile. In una partita online dove magari hai 7 minuti, 5 minuti, massimo 10 minuti, dipende poi dalle impostazioni. E viene fatto ovviamente con fretta. 10-6. Allora, l'occasione di pareggio sfuma viene fatta a 12-15. 6-2 per il bianco, 18-21, ecco il nero è pronto a dare il cambio per fare due dame. Però il bianco qui, ok, doveva fare 2-6 come mossa migliore, ma fa 30-26 con l'idea di non fargli dare il cambio al nero. Ma questa idea non funziona, perché c'è 9-13. C'è 9-13 che vado ad attaccare questo punto. Ed è quello che succede, ragazzi. Ecco, qui si danno entrambi un pezzo. Poi il bianco gioca 29-25. Perché 29-25? Qui non si può attaccare. Il nero ha il tiro. Il bianco furbamente lo sa. Gioca 29-25. Qui per il nero è facile, che porta i suoi pezzi in avanti. Qua viene fatta questa stranissima 31-28. Ora vengono fatte alcune mosse di sviluppo. Ecco, il nero attacca cercando di fare il tiro. Il bianco lo schiva. Il nero cerca di bloccare adesso la 24. Anzi, prima muove questa. Poi viene questa 24-20. Purtroppo è sbagliata, perché adesso il bianco non può evitare il cambio. E non può spingere la 20. Perché se no, qua c'è il tiro. Quindi, 12-8. Il nero allora decide di portare la sua pedina arretrata in avanti. Qua questo attacco è sbagliato perché ci sarebbe 23-28 cambio. E poi il bianco dovrebbe portare in avanti la sua pedina. Oppure sacrificarla per forza. Ovviamente il nero non vede ciò. Muove 14-18. Ancora una volta con 11-14 con questo attacco si poteva fare questo giochetto. Però il nero non si accorge. Gioca 18-22. Comunque sono piccole imprecisioni. La partita è in vantaggio del nero che sta dominando. Un pezzo in più. Più dame. Ecco, meglio di così. Non gli poteva andare. Poi il bianco decide di mettersi in questo lato per non farsi dare il tiro. Ma solamente il cambio. Ok, senza la dama in 11. Qua c'è il tiro. Anzi, tiro a 3. Volendo. Con la dama ferma il tiro. Però non il cambio che è stato forzato. Poi ragazzi. Io mi fermo qui. Perché la partita. Diciamo che non può essere raccontata. Perché da come si vede. Il nero ha dominato. E sta vincendo la partita. Però in qualche modo riesce a fargliela pareggiare al bianco. Anche perché non gli importava neanche di vincere. Così come io nel Road to 1005 se vinco la prima partita non mi importa neanche di vincere la seconda. E così anche ad Amos. Se ne frega, tanto la prima partita è stata vinta. La seconda pareggiata e il game è stato vinto quindi. Per le regole di play ok funziona così almeno. Grazie a tutti per la visione. Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace. Di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. E noi ci vediamo alla prossima.